Allora con Matteo Grandi il nostro portierone, Matteo insomma com'è andata a Trieste? Un primo tempo così così e poi però non demorde, la squadra c'è ed è riuscita a risalire la china? Beh sicuramente è stata una partita dove nel primo tempo abbiamo un pochino sofferto, siamo stati bravi comunque nel secondo, a reagire anche nel nostro gioco, rischiavamo quasi di fare il secondo gol e portare a casa i tre punti, però per come è andata un punto a Trieste, comunque un campo che non è facile, proseguiamo, manteniamo la striscia positiva e affrontiamo la prossima gara. Non è mai facile entrare in campo subito e mettere la massima intensità, si lavora per quello perché non possiamo permetterci noi, non è facile recuperare sempre la partita, partire con un handicap, dobbiamo migliorare questa cosa e lavoriamo tutti i giorni per farlo, appunto per far partire gli altri con l'handicap. Come sta la difesa, come siete messi? A difesa, a parte Bizzotto che è infortunato, gli altri stanno alla grande, chiunque lo sostituirà farà sempre alla grande, come al solito. Il mister, anche quando c'eravano tutti, ha visto che sono molto intercambiabili i difensori, quindi manca Bizzotto e sicuramente Pasini, Mantovani e Bonetto, chi giocherà dei tre, sarà come è sempre fatto quando è stato chiamato in causa, quindi non siamo per nulla preoccupati. La squadra è tutta unita, è coesa, abbiamo un unico obiettivo e dobbiamo raggiungerlo tutti assieme. Tu sei un ex del Sud Tirol che arriva qui, come la vedi questa squadra, che partita sarà? Sicuramente è una partita tosta perché loro, come ho detto, hanno una propria identità e in Serie C non è facile trovare una squadra così, sono anche molto fisici e comunque sarà una bella partita che bisognerà affrontare in maniera giusta. Adesso stiamo pensando solo al sud, non pensiamo a chi ci sarà dopo, quindi non possiamo permetterci altre distrazioni, poi dopo quello che verrà, prossima settimana, martedì ci troveremo e affronteremo l'altra, quindi senza problemi.